Siamo nel cuore di Chiavari all'Osteria Luchin con Simone Tascone, partiamo Simone dal rapporto con questa città. Appena sono arrivato qui ho visto subito, è un po' come Napoli, c'è il mare, si sta bene, si vive bene, la città è tranquilla, anche la mia famiglia si è abbandata subito e quindi è una bellissima città. Sì, subito si sono trovati benissimo, mia figlia ha iniziato la scuola qui a Chiavari, quindi si sta bene, 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 veramente bene. Sicuramente con i due miei bambini accompagno mia figlia a scuola la mattina, ci facciamo una passeggiata qui in centro con mia moglie e l'altro mio bambino che è più piccolo e poi vado al campo, faccio allenamento, dopo allenamento di nuovo ripasseggiata e poi la sera mangio a casa, una giornata tranquilla. Sicuramente ho associato la focaccia che è buonissima, se non si parla si chiama la farinata, il pesto, quindi sì, si mangia bene qui. Pizza, focaccia e farinata? Focaccia, focaccia di più, che ho legato di più sono Silvio, Mercai, Arman, Rada e Leo Di Cosmo, però è un gruppo sano, è un gruppo che ci aiutiamo, è un gruppo che vogliamo fare, vogliamo arrivare a grandi traguardi, quindi sicuramente si sta bene, perché è un gruppo, sia un mix tra giovani e anziani, si sta veramente bene. Ci sono giocatori come hanno fatto la Serie A ad Essena, Morosini, Paolucci, ci sono giocatori di tanta tanta qualità, quindi c'è solo da apprendere.